Se volete acquistare crediti passate da FIFA Coinzone, sono veloci, sicuri e con ottimo prezzo. E con il codice coupon GIOVISPO otterrete 5% di sconto. Troverete il link qui sotto in descrizione. Salve a tutti ragazzi, belli e brutti e mi iscritti più di tutti. Bentornati su GIOVI HVSPO, io sono GIOVISPO. E dunque, questo è il primo episodio di questa nuovissima serie che farò sul canale. Questa serie farò wager match contro iscritti, contro chiunque vorrà fare wager match contro di me. Naturalmente, sempre pre-offerta. Allora, in questa serie cercherò di acquistare, anche se non l'acquisto, di arrivare a un tot di crediti per acquistare un determinato giocatore, ovvero Robert Lewandowski. Una volta arrivato a poter acquistare Robert Lewandowski, potrò continuare con altri giocatori. Royce, Turet, ad esempio questi giocatori. Vi ho messo un esempio. Comunque, state vedendo questo giocatore if, sarà in palio nel Pink Slips, non so se caricherò prima questo video o prima il primo video del P2C, Pink Slips, non lo so. Qui lo sto facendo prima, quindi non avete modo di sapere se ho vinto o perso. Questa è la squadra che userò in questo primo wager match contro un iscritto. non l'ho mai provata, ve lo dico chiaramente, non l'ho mai provata. Eh, vabbè. Dunque, la proveremo, la proverò in questo wager match. Sarà da 5k, partirò da un budget di 10k. Se perdo 10k, mi riaggi un caldo di 10k, però saranno meno 10k. Non so se mi spiegano. Meno 5 se perdo, meno 5 se perdo la prossima partita ancora, e poi saranno ancora meno. Quindi, devo cercare di vincere, vincere, vincere. Dunque, ora invitiamo l'avversario. Ed ecco l'arrivato Bundes as strong, 79, 77, 79. Scuserà questa? Sì. L'ivisa classica dell'elto, mi sa. Metti la maglia della Juve. Ok, ho capito se Juventino, vabbè. Non fa niente, non fa niente. Si gioca, si gioca, si gioca. Vediamo la squadra avversaria, 4-3-3-4. Vediamo. Allora, ottimo direi, perfetto. Abbiamo... Leno. Poi dovrebbe essere Durm, Subotis, Sokratis. Quell'altro, terzino destro. Oh, terzino sinistro e Schmelzer. Terzino destro dovrebbe essere... Grotsu. Vabbè, non mi vengono i nomi, cazzo. Boateng, Cicci, De Vrij, Luis Gustavo, Sonny, Immobile e Müller. Beh, attacco che fa paura. Dico, la verità fa paura. Però, bisogna non temere nessuno. E continuare per la propria strada. Adrian, dà questa palla a Douglas Costa. Douglas Costa. Douglas Costa. Scusate, mi si era ingrippata la lingua. Quando si ingrippa il motorino, non vuole partire. Douglas Costa. Riceve questo passaggio. Eh, sotto a porta, non può sbagliare. 5 stelle skill. Ottimo Douglas Costa. Attenzione. Questa palla per Müller. Cazzo. Cazzo. Digne. E che minghia ne fai? Non puoi parare, Howard. 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 Ho detto che non puoi parare. Non ci crede, Howard. E non ci crede. Ora ci crede che non puoi parare. Vabbè. 1 a 1 Brutto intervento di T Questa palla per Bernard Che va tu per tu Bernard Bernard Poco dopo il calcio di Tore Bernard Palla per Immobile Guarda ancora Bravo bravo Luis Adriano La vinta Luis Adriano tu per tu col portiere Luis Adriano Al 38esimo Fa questo gol Che cantilena che sto facendo Che cantilena Mamma mia Da dove è uscito questo gol? Da dove è uscito? Dal cilindro magico di Immobile Da dove cazzo è uscito? Ragazzi da dove cazzo è uscito? No No Eccolo qua Eccolo qua Tanti si sono messi là A fraseggiare davanti all'aria di rigore Che Alla fine è entrata E dunque non sono bastati I tempi regolamentari Si andrà a questi Fottuti Supplementari Non si va ai supplementari Parità Bisognerà rifarla La partita Finita in pareggio Avanti Cambiato squadra Ho preso la BBB Si chiama così Non so Io do il nome a Muzzo E vabbè Aspetto Aspetto Mamma mia Che rete Da dove è uscita Sta rete di la lana Questo long shot Di la lana Si merita un bel replay Io neanche Ho tirato così Per tirare Ed è entrata addirittura Mamma mia Che Che ha detto Rigore 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 Si Rigore Ok Allora Sono sicuro che lo sbaglio Quindi Non 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 lo sbaglio Quindi lo sbaglio Cioè Non lo sbaglio Rigore Chi lo batte Danny Vediamo Vediamo Opla C'è il gol C'è il gol C'è il gol Di Danny Su rigore Niente Su tante Non c'è niente Dai su tante Un rigore No I difensori Qui con i colpi di testa Vanno a farfalline A farfalline Tunze 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 Spada Pi 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 Ma che ho Eh già 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 Palla per Tosic Tosic Ma tu per tu col portiere Tosic Palo Oh dai Mamma mia E che E che Sti cazzi di dire Per Rondon Il tiro di Rondon La chiude All'89esimo momento Salomon Rondon Questo giocatore Ve lo dico E alquanto Vagato 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 Tosic Si libera Fuori Tosic E che Cazzio Proprio Finisce Dunque Qui Vittoria E dunque 5k Ci avviciniamo Già Ad Un Come posso dire Ci avviciniamo All'obiettivo Di questa serie E dunque Ci vediamo Alla prossima Se volete fare Wager Match Contattatemi Sulla pagina Facebook Vi risponderò E ci metteremo d'accordo Dunque Alla prossima